Grazie a tutti. C'è? Bellissimo, bellissimo. E allora ci dovremmo impegnare di doppio. Comunque volevo dire che questo a Nino Hotasuite ha superato le 200.000 visualizzazioni su YouTube. E' diventato tra l'altro anche la singola di un programma televisivo, quinta colonna credo, no? Sì, perché i miei parenti tutte le seri mi dicono che ho sentito la televisiva. Bene, buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.